si tratta di tre chili e settecento di porcini fatti oggi che giorno è questo 13 si oggi è il 13 porcini meravigliosi una più bella dell'altro mi ha fatti quasi tutti la pruna qui abbiamo una serie di gallette funghi vari trombette di morto una verdella che eccola qua trombette di morto qualche massa di tamburo gallette meravigliose una sorriso sei un po stacca e ci credo